Questo servizio è offerto da Dread Multimedia Premiata pizzeria Sarda Salata Centro Commerciale Il Porto Amici sportivi, buon pomeriggio dallo stadio Alfredo Girò di Torre Annunziata per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie D Girone I si affrontano il Licata e il Savoia Dagnata da Greco che fa partire Convitto sulla sinistra Zona Convitto, Convitto, punta l'uomo, entra in area Convitto, Convitto tra due uomini, Convitto si gira Il tiro, la parata di Coppola che si distente con Manfred Ha una buona palla, serve Convitto, Convitto entra in area Convitto, Convitto cerca il fondo, Convitto la palla dentro A cercare Manfred Bene dentro l'area del Gatto che forse si incarica della battuta Vediamo il tiro, la parata di Serenari che si distende come un gol Spazio, Suji serve sulla destra per il tiro di Tascone La palla stava finendo fuori Ma piccata con questi frateggi stretti E poi Convitto perde la palla Ma c'è Manfred, limite dell'area di rigore Manfred, il tiro fuori Zona ancora la palla, Scalzone deve davanti a sé a Daniello Lo supera, Scalzone il tiro, poi proprio Daniello con il corpo va a Traversa del Savoia e c'è gol, gol del Savoia che è arrivato in maniera assolutamente fortuita Perché Scalzone, Devena ha fatto, mi pare sia stato Devena a fare partire un tiro Dalla tre quarti che ha superato Serenari, Serenari aveva preso la palla con la mano La sfera ha sbattuto sulla traversa ed è finita praticamente sulla testa A servire Dionisi, lo scambio e ancora proprio Rondinella, Rondinella il tiro E Serenari dice di no Calcio d'angolo già battuto corto, Tascone Ancora per Dionisi, ancora Serenari, ancora Serenari al quarantunesimo In questa condizione di Cannavò quindi non sappiamo se potrebbe giocare intanto Manfred Manfred al limite dell'area di rigore, Manfred provala e Volè Con la sfera che però finisce abbondantemente a lato Prezzo per la metà campo in questo momento, serve Greco, Greco lo stop verso Adejemo Adejemo e il tiro sul portiere Prova a far male, Scalzone, Scalzone si gira al limite dell'area di rigore Scalzone cerca lo spazio per il tiro, non c'è fallo sì Calcio di punizione dal limite dell'area di rigore, siamo proprio sulla lunetta dell'area di rigore E' effettivamente in porta, palla che sarà toccata da un compagno Tiro, gol Palla che praticamente è passata attraverso le gambe della barriera dell'elicata 2-0 in favore del Savoia, vuoto Porcaro, può partire il contropiede del Savoia Scalzone, 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 prova probabilmente il tiro a letto Scalzone in trenare, il tiro di Scalzone E questa volta Serenari si fa scappare un pallone Facile, facile 3-0 per il Savoia Poi si è perso chiaramente tra le maglie dei bianconeri Intanto il calcio è ancora un gol E ancora il gol sul calcio d'angolo Il gol è di Osugi Osugi che va a mettere la quarta rete per il Savoia Lo ripetiamo, al 29esimo Devena nel primo tempo Al 13esimo Gatto, al 32esimo Scalzone, all'85esimo Osugi Finisce qui, triplice fischio dell'arbitro Baldi di Roma Savoia batte l'elicata 4-0 Vi abbiamo raccontato tutto Adesso le attenzioni sono tutte Al big match per l'elicata Aldino Liotta contro il Palermo Fra sette giorni servirà un altro elicata